Io ho scritto una cosa molto semplice, responsabilità e opportunità. Se voi volete con orgoglio che i nostri quartieri, e noi possiamo tornare a essere la regina di questo mondo, se voi volete che possiamo guardare in faccia, chi viene qua ogni volta ci fa la morale, la morale la facciamo noi agli altri, se voi volete tutto questo, se voi volete essere protagonisti, perché io sono protagonisti, io esisto se voi mi date il voto, altrimenti non esisto proprio, quindi il vostro protagonismo è nella mia stessa esistenza. Allora io vi dico, se voi volete tutto questo, se voi volete dare finalmente un segno che a Roma si può, che ci possiamo rimettere in piedi, che crediamo nel futuro nostro e nei nostri ragazzi, che non vogliamo che la speranza dei nostri ragazzi venga uccisa da chi continuamente ci invadi di cinismo, io vi dico, vi dico, allora votiamo insieme il cuore, perché in questo cuore ci siamo noi, ci sono i nostri quartieri e c'è la speranza della nostra città. Grazie, 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 non mi sono mai la battaglia d'anno, perché non mi vado, 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 non mi vado e se non c'è una condizione. Io mi sento un grande luglio e mezza per voi. Grazie, grazie, grazie. Grazie. Grazie.